Questa roba che è appena arrivata... Guarda che figo! Qua c'è la storia... Proprio è il prossimo che mi chiede se in negozio ho un portachiavi di Deadpool, non lo so io. Ecco, versione Masterchef... Ah, questo col pollo finto che ormai per lui è diventata una specie coperta di Linux. Guarda... Guarda come è fatta bene l'armatura da samurai... Che c'ha torciglia dalla spada? Ecco questo... E' carino pure questo... Cioè, qua è vestito da ragazza pompò. Questi sono i Misteri Pocket Popcation. Cioè, in teoria sarebbero bustine a sorpresa, però voglio sapere che io... Ve li faccio sceglie, li apro e ve li faccio sceglie, perché a noi le sorprese non ci piacciono.